Adriano Cazzaniga ok, freno schiaccia il freno, metti la prima vai, dai pure il gas che partiamo entra pure qua sulla sinistra adesso andiamo sui 60 all'ora più piano piano dopo, una volta superato il semaforo puoi dare gas stando sempre bene sulla destra perché magari arriva qualcuno veloce da sinistra ok, dai pure gas, stai sulla destra un po' a frena scala seconda continua a frenare entra a destra da un po' di gas, lascia andare a destra sei vicino a destra va a vedere quanto puoi passiamolo, aspetta che adesso io il passo è staccato a sinistra ok, frena qua, frena forte, forte ok, scala ok, dentro dai un po' di gas, lascia andare a sinistra vai dai gas, tutto gas stai sulla sinistra ok, dai dai qua, frena frena, scala una marcia dentro destra stai vicino, stai vicino, stai vicino quando vedi l'uscita gas la lascia andare a sinistra vai gas appena prima di 50, frena ok frena, viene a marcia dentro destra e gas vai gas, lascia andare a sinistra tutto gas vai tranquillo, va tutto è pieno stai vicino a sinistra sinistra ok sposta di destra tra i 300 e i 200 frena vai, vai, vai fino ai 200 ok va, frena scala, scala scala ancora ok ok, dentro a sinistra filo di gas vai tranquillo filo di gas stai vicino a destra stai vicino a destra taglia vicino a sinistra e lascia andare a poi a destra tutto gas ok mi rallentiamo rientriamo i box stai sempre attaccato a destra ok, qua frena stai a destra stai a destra stai tutto accanto a destra che rientriamo in box che rientriamo in box e mi piacciono a destra che rientriamo in box stai a destra